Musica Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Televari. Carlo Calenda è stato ospite questa mattina negli studi di Televari dopo la rottura col campo largo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Per le elezioni regionali in Basilicata il leader di azione si è concentrato sui possibili scenari, commentando anche la situazione di Bari e ribadendo l'appoggio a Vito Leccese. L'ho intervistato per noi Roberto Maggi. A livello locale se ci sono dei buoni candidati che si possono occupare dei temi che sono fondamentali, in particolare la sanità che è un disastro e che è il tema più importante, bisogna sostenerli. Questo abbiamo fatto in Abruzzo e non è andata bene. In Basilicata la situazione è diversa, perché Conte ha messo un veto sulla partecipazione d'azione e ha identificato un potenziale candidato che è un oculista, che non ha mai fatto politica, che ha detto ma io vorrei continuare a operare mentre faccio la campagnettola. E' una roba che non sta attenendo e quello io ho sollevato il punto, ho detto noi non possiamo pensare che le opposizioni siano guidate da Giuseppe Conte, perché io non lo riconosco come leader credibile e soprattutto il Partito Democratico deve decidere se fare il grande partito che è oppure fare un'altra cosa. Partiamo dal presupposto che De Caro ha ben amministrato, dobbiamo come facciamo a Firenze con Nardella andare in continuità quando c'è un bravo amministratore, questo è quello che a me interessa, per il resto non ci interessa, è importante che sia bravo ad amministrare, se fosse cattivo ad amministrare io lo appoggerò il candidato tra la destra, non me ne importa niente, devono mettere il posto le strade, l'immondizia, non è che devono decidere se mandare le armi in Ucraina o no, quindi è una valutazione del tutto oggettiva e lì c'è un candidato leccese che noi abbiamo identificato, non solo noi, c'è una parte rilevante, quindi io quello che auspico è che questo nodo si sciolga il primo possibile. Restiamo sulla politica, Michele Laforgia ha inaugurato il comitato elettorale ieri in corso Vittorio Emanuele, il penalista ha parlato di primaria dichiarando chi accetterà la bozza di regolamento proposta dal Partito Democratico, vediamo. Un grande striscione con lo slogan cessate il fuoco riferito alla guerra in Palestina, è un logo che ricorda la Marvel, l'azienda cinematografica che racconta le gesta dei supereroi più famosi del mondo, la campagna elettorale di Michele Laforgia parte nel suo nuovo comitato, la base del penalista barese ha aperto i battenti, in corso Vittorio Emanuele Angolo Viamelo, il candidato sindaco sostenuto da numerosi partiti e movimenti di sinistra, ha tenuto un discorso davanti ad un'ampia platea, ad aprire la serata è stato l'intervento della giornalista Francesca Borri, inviata in Palestina. Poi ricordo di Franco Cassano, definito dalla Forgia il suo maestro e di suo padre, intanto l'argomento primario è tornato in erbanco, il PD ha inviato una bozza di regolamento che secondo le prime indiscrezioni prevede la creazione di un albo pubblico per tracciare, attraverso un codice a barre, tutti gli elettori. La Forgia ha spiegato che accetterà le condizioni proposte dal Partito Democratico. Guardi, onestamente io la bozza non l'ho ancora vista, ma l'accetto senza vederla, lo abbiamo già detto. Siccome ci è stato detto per tanto tempo che siamo divisivi, che non vogliamo l'unità della sinistra, che vogliamo rompere, io ho fatto il gesto, credo, più unitario possibile. Ho detto alle persone che sostengono un altro candidato, ai partiti che sostengono un altro candidato, di stabilire le regole e l'ho detto perché io mi fido. Presente alla serata inaugurale l'assessora al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, e Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Intanto sabato sarà la volta di Vito Leccese che inaugurerà la sua base operativa. Mi ha invitato a mia insaputa perché a me non lo ha detto, però magari mi sta invitando, io non lo so. Ma posso darle una notizia, ci sarei andato comunque. E lo avete sentito nel servizio dopo l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Michele Laforgia, che ha aperto ieri in Corso Vittorio Emanuele, domani mattina il taglio del nastro, invece nel comitato dell'altro candidato sindaco del centro-sinistra Vito Leccese, assieme a cittadini rappresentanti dei partiti, delle forze politiche e delle associazioni che lo sostengono. L'appuntamento alle 12 in via Argiro, angolo Piazza Umberto. Andiamo avanti con i nostri servizi, treni fermi sulla Roma-Lecce. Una delegazione di parlamentari di centro-sinistra ha incontrato rappresentanti di rete e ferrovie RFI, ripristini la linea e attivi il servizio sostitutivo. Sentiamo. I treni per Roma e Napoli potrebbero non avere il via libera almeno per un mese. La frana di pochi giorni fa, che ha interrotto la linea ferroviaria ad Ariano Irpino, costringerà un intenso lavoro di ripristino del percorso. Un gruppo di parlamentari pugliesi ha incontrato i rappresentanti di RFI per affrontare la questione. Abbiamo preso atto della gravità della situazione in essere, scrivono, dal momento che i movimenti franosi hanno interessato una vasta superficie di terreno, sovrastante la galleria, con un fronte attivo di circa 4.000 m2, provocando danni all'infrastruttura ferroviaria per circa 250 metri, per il cui ripristino urgente di prima fase saranno necessari almeno 30 giorni di tempo. Così, in una nota, i parlamentari pugliesi del centrodestra. A tal proposito, aggiungono, abbiamo avanzato una serie di proposte, di cui va valutata la fattibilità tecnica per chiedere un'offerta di viaggio alternativa al servizio sostitutivo in bus tra Benevento e Foggia, predisposto nelle ultime ore. In particolare, tra queste, abbiamo avanzato l'ipotesi di prevedere il proseguimento dei treni che collegano Roma a Taranto fino a Brindisi e Lecce. Questo consentirebbe di alleggerire la pressione sulla linea interrotta e di permettere a tutti coloro che abbiano acquistato un titolo di viaggio relativo alle tratte Roma-Lecce e Lecce-Roma di poter viaggiare senza ulteriori disagi, né cambi e senza sostenere spese aggiuntive. Nel frattempo, da RFI, ricordano che durante l'interruzione i treni a lunga percorrenza, come Alta Velocità e Intercity, saranno arrestati nelle stazioni di Benevento e Foggia. Sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. Truffe da trading online e allarme in Puglia, le raccomandazioni della Polizia. Crescono le denunce per reati di truffa del cosiddetto trading online, la compravendita via Internet e di strumenti finanziari. A lanciare l'allarme il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Puglia. Si tratta di un fenomeno criminale estremamente insedioso, riferisce la polizia, e di elevato allarme sociale, soprattutto per l'ammontare del danno economico patito dalle vittime che va da poche migliaia fino a oltre 100.000 euro. La truffa nasce da un contratto diretto tra vittima e truffatore e ha come oggetto un presunto investimento nel mercato delle criptovalute notoriamente caratterizzato da una volatilità di prezzo tale da incentivare il malcapitato ad investire ingenti somme di denaro con l'illusione di guadagni molto elevati, fino al 30% in più della somma investita nel breve termine. In tutti i casi, la vittima, riferisce ancora la polizia, viene invitata a registrarsi su una piattaforma online gestita dal truffatore che riporta dati falsi con il solo obiettivo di motivare il malcapitato a versare somme sempre maggiori con l'illusione di grandi guadagni. Nel momento in cui poi la vittima chiede di monetizzare i propri guadagni, i truffatori chiedono altro denaro a titolo di presunte tasse da versare. Complicato, riferisce ancora la polizia, recuperare le somme e oggetto di truffa trattandosi del sistema criptovalute. Pertanto è fondamentale adottare ogni possibile cautela nelle operazioni di trading online, evitando di trasferire denaro a persone sconosciute e rivolgendosi ad operatori del settore qualificati e regolamentati. La polizia di Stato raccomanda di diffidare da operatori che contattano dall'estero, diffidare da donne asiatiche conosciute su piattaforme di incontri che si presentano esperte nel settore finanziario, verificare sempre sui siti web di Consob e Banca d'Italia che il broker sia esistente e realmente autorizzato ad offrire servizi di investimento, non trasferire denaro verso IBAN stranieri. Arrestate dai carabinieri a Molfetta due donne per detenzione di droga. In casa nascondevano cocaina. Due conviventi sono state arrestate dai carabinieri per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due donne di Molfetta di 42 e 49 anni già note alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato nella loro abitazione e 100 grammi di cocaina confezionati in tre grossi involucri artigianali in cellofan, oltre 750 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. In casa le due donne avevano anche materiale per il confezionamento della droga. Sono state arrestate e trasferite nella sezione femminile del carcere di Trani. C'è particolare attenzione dei militari sul territorio di Molfetta, teatro, di numerosi episodi avvenuti negli ultimi mesi che avevano fatto scattare l'allarme criminalità. I carabinieri hanno avviato un continuo perlustramento delle zone ritenute più a rischio. Negli ultimi giorni la polizia giudiziaria è arrestato anche in flagranza di reato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di ascisce e marijuana e sequestrato quasi un chilo e mezzo di droga suddivisa in panetti, ancora da tagliare in dosi. I quattro arrestati erano tutti maggiorenni. Cambiamo argomento. Quattro emergenza Xylella in Puglia è stata aggiornata la zona di contenimento per contenere il batterio. Ci dice tutto Roberto Maggi. Una ricerca mirata delle piante intaccate dalla Xylella fastidiosa per garantire abbattimenti veloci nella Valle d'Itria nel piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia relativo al triennio 2023-2025 che interessa i comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Castellana Grotta e Alberobello e parte di Putignano. L'osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ridefinisce l'area di contenimento sulla base dei monitoraggi eseguiti su piante di olivo, mandorlo, ciliegio, macchia, bosco e verdi urbano. Ridefiniamo l'area di contenimento prevista dal piano d'azione, spiegano dall'assessorato, per consentire un'operazione chirurgica di eradicazione delle piante colpite dalla Xylella fastidiosa che sia più efficace e veloce. Le misure di contenimento del regolamento dell'Unione Europea prevedono che venga abbattuto solo l'albero infetto e non le piante sane nel raggio di 50 metri dalla pianta. Nelle ultime settimane l'allerta si è alzata inoltre per l'individuazione nel territorio di Trigiano di alcune piante diverse dagli olivi intaccate da un nuovo ceppo del batterio. E adesso tutti gli aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it lo facciamo con Tiziano Tridente della nostra redazione social. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Cristina, in primo piano sul nostro sito La Cronaca. Il corpo senza vita di una donna di 86 anni è stato trovato questa mattina a Corato in un'abitazione di via Barbaschello. A dare l'allarma è stata una vicina di casa dell'anziana preoccupata perché da qualche giorno non aveva più sue notizie. Sono così intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, del locale commissariato e i vigili del fuoco che per entrare in casa hanno dovuto forzare l'ingresso. Le indagini sono in corso ma non si esclude che l'86enne possa essere morta per cause naturali. Ci spostiamo a Bari con l'attività svolta questa mattina da Amio e Polizia Locale nella zona di Carbonara, Ceglie e Loseto dove a partire dallo scorso 23 gennaio è stato avviato il servizio di raccolta porta a porta. Sono stati individuati luoghi dove ripetutamente vengono abbandonati i rifiuti da parte delle utenze spiegano da Amio e quindi si stanno svolgendo operazioni di apertura dei sacchetti e di accertamento per verificare l'eventuale presenza di indizi così da risalire ai responsabili. Cambiamo argomento e chiudiamo. 8 nuovi progetti che hanno superato la valutazione di merito e dunque 8 nuove aperture a Bari grazie all'avviso pubblico in presa prossima un bando comunale attivato nell'ambito di Bari 2022-2024 il programma per il sostegno dell'economia di prossimità che favorisce l'apertura di nuove attività con contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro in cambio dell'impegno da parte dei neocommercianti a promuovere iniziative, servizi ed eventi gratuiti a carattere sociale. Dalla Sartoria Creativa Libertà passando per il negozio di birra e vinile a Carassi tutte le nuove aperture su telebari.it Grazie Tiziano in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare abbiamo raccolto la testimonianza di Stefania che ha vissuto sulla sua pelle il dramma dell'anoressia e ne è uscita grazie al centro Ananche di Bari sentiamo la storia Quanti chili avevi perso? Quanti chili avevi perso? È la domanda che prima o poi chiunque abbia sofferto di anoressia si è sentito fare almeno una volta nella vita è la domanda che chiunque ha fatto a un amico o un parente rimasto intrappolato tra i fili spinati dell'anoressia quanti chili avevi perso? Tanti non lo dico soltanto perché magari chi può ascoltarmi potrebbe fare un eventuale paragone e mi è capitato a volte di ascoltare delle interviste dove si parlava del numero di chili persi o quanto era arrivata a pesare e nella tua testa nella testa di una persona che magari purtroppo sta iniziando a sviluppare un disturbo del genere scatta quella cosetta del eh, forse devo perdere di più l'anoressia si è fatta largo nel corpo e nella psiche di Stefania in pieno lockdown trascinandola per due anni in un baratro di isolamenti insoddisfazioni e ossessioni l'anoressia diventa un porto sicuro perché tu ti svegli e sai cosa fare quindi è come se avere delle direttive è come quando tu la mattina ti svegli vai a lavoro vai in palestra e la tua routine Stefania è qui ha la fortuna di raccontarlo questo buio con placida serenità e ringrazia a cuore aperto il centro ananche di Bari dei disturbi del comportamento alimentare per averla presa per mano è accompagnata lungo il percorso di cura affidarsi a un centro è la cosa principale perché di lì ho detto non è che poi è tutto in discesa perché anzi è tutto in salita è una salita ripida però farla da soli è un conto farla con qualcuno è una cosa completamente diversa e io non mi sento ancora arrivata in cima io questa salita la sto ancora affrontando quindi è questo perché ogni giorno tu comunque devi essere consapevole del fatto che sei qui che lo puoi raccontare che puoi dare una mano a qualcuno le famiglie cosa possono fare per aiutare i loro figli? possono informarsi la prima cosa da fare è informarsi in modo da cogliere i segnali in tempo perché quello che noi sappiamo da ormai anni di ricerca è che i disturbi alimentari giovano di un intervento precoce prima ci si occupa del disturbo migliori sono le possibilità di guarigione questo non vuol dire che i pazienti che ne soffrono da tanto tempo non abbiano buone possibilità di guarigione però se diventano i genitori esperti nella detezione insomma nel riuscire a riconoscere i segnali questo può fare tanto e adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione andiamo a Foggia dove ha fatto visita il presidente Anci il sindaco di Bari Antonio De Caro per manifestare la contrarietà del partito democratico alla autonomia differenziata Nicola Saracino rischi nel trasferire alcune funzioni amministrative gestionali alle regioni con possibili sovrapposizioni di competenze e intoppi burocratici e i finanziamenti di alcune attività che dallo Stato vanno alle regioni senza tener conto di quelle che sono in capo ai comuni il PD di Capitanata prende posizione contraria sull'autonomia differenziata entrata ormai a far parte dell'agenda politica nazionale e lo ha fatto assieme ad Antonio De Caro presidente del Lanci e sindaco di Bari in visita a Foggia io sono convinto che l'autonomia differenziata rischia di fratturare ancora di più il paese di separarlo di rendere più ricco chi è già ricco e più povero chi è povero già i termini autonomia differenziata fanno pensare a un paese diviso a una sorta di gerarchizzazione territoriale in cui il sud viene abbandonato al proprio destino noi stiamo facendo una grande operazione come classe dirigente del sud tanti sindaci di impegni di spesa dei fondi del PNRR che servivano proprio a recuperare questi gap questi divari che sono anche divari territoriali oltre che divari di genere divari generazionali tanti i partecipanti all'incontro tenutosi nell'auditorium Santa Chiara che segue la tre giorni di mobilitazione promossa dal PD Foggiano proprio per manifestare il no alla riforma voluta dal ministro leghista Calderoli e sostenuta dal governo di centrodestra che secondo il partito democratico accentuerebbe il divario tra regioni ricche e regioni povere favorendo le prime a svantaggio delle seconde abusivismo edilizio sequestrati quattro immobili e piscina in un BNB del Salento sentiamo i militari della sezione operativa navale di Otranto con il coordinamento del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari questa mattina hanno concluso un'operazione di servizio volta al contrasto dell'abusivismo edilizio in aree soggette a vincolo paesaggistico in particolare nella marina del comune di Melendugno nel Salento è stata sottoposta a sequestro una struttura ricettiva BNB durante le operazioni i militari hanno appurato che tre immobili ad uso abitativo un locale ad uso deposito ed una piscina comprensiva di solarium erano stati realizzati abusivamente i controlli dei finanzieri hanno verificato anche alcune anomalie strutturali e amministrative come i numeri di posti letto superiori a quelli segnalati all'ente competente e il mancato versamento dell'imposta municipale per le strutture regolarmente autorizzate la procura della Repubblica di Lecce in queste ore sta verificando l'eventuale colpevolezza delle persone responsabili l'operazione di questa mattina è una chiara testimonianza dell'azione svolta dai militari per contrastare l'abusivismo a tutela del patrimonio ambientale e proseguirà allo scopo di contrastare l'economia sommersa che pregiudica gli equilibri economici e finanziari del paese istituzioni e agricoltori a confronto ad Alberobello per fare il punto sulla lotta all'axilella ci spiega tutto Francesco Russo sono trascorsi oltre dieci anni dal rinvenimento del batterio killer degli olivi nel Salento e rapida avanzata anche nel sud-est barese ma le attività di contrasto e monitoraggio disposte da Unione Europea e Regione Puglia registrano risultati confortanti per tutta una serie di ragioni incluse anche o forse soprattutto la migliore organizzazione delle misure di contenimento previste dalle autorità fitosanitarie la diffusione è fortemente rallentata è molto più lenta di quando non lo fosse negli anni scorsi Sicuramente c'è una sensibilizzazione maggiore e anche una conoscenza maggiore del problema e si cerca tutti con una collaborazione più proficua senza al di laico delle polemiche o tutt'altro di andare nella stessa direzione e cercare di preservare quanto più il nostro territorio Per rafforzare la tutela del patrimonio olivicolo la Regione ha ridisegnato le zone oggetto del piano anti-Xilella inserendo al Berobello i comuni e i limitrofi nell'area di contenimento prevedendo l'eradicazione del solo olivo infetto e non più le piante nel raggio di 50 metri L'attenzione si sposta ora tuttavia sulla sottospecie di Xilella scoperta su 6 mandorli in territorio di Trigiano La buona notizia è che non infetta l'olivo perché l'olivo è immune a questa sottospecie la novità che invece richiede non dico preoccupazione ma quantomeno attenzione certamente non panico ma attenzione è che potenzialmente invece da quello che noi sappiamo dalla esperienza dei colleghi straniere soprattutto di oltreoceano che potrebbe rappresentare un pericolo per i vigneti e per questa edizione del telegiornale è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di sabato con un lieve cedimento all'alta pressione sull'Italia possiamo notare di fatti sul nord Europa il passaggio di questo sistema depressionario che lambirà anche i Balcani e l'Italia subito però da domenica tornerà all'alta pressione dalla Spagna in direzione Europa centrale e parte anche delle nostre regioni ecco di fatti il passaggio instabile con delle precipitazioni sul nord est tra mattinate e pio pomeriggio e poi anche in centro sud rapidi piovaschi più probabili sulle regioni adriatiche lungo l'appennino centro meridionale un po' di variabilità di nuvole irregolari al centro sud con possibilità di piogge come dicevamo in giornata a macchia di leopardo migliora invece via via al nord una giornata abbastanza bella al nord ovest qui tra l'altro un po' di venti di caduta faranno lievitare le temperature fino a 20-22 gradi tra Torino e Milano maggiori dettagli scaricando l'appo gratuita di Trabi Meteo di Trabi Meteo